Un'operazione trasparenza a tutto spiano per il Consiglio Comunale Biscelliese. A sostenerla sono i consiglieri del Partito Democratico, capeggiati da Bartolo Cozzoli, che dopo aver sollecitato fortemente nell'ultimo Consiglio l'approvazione del regolamento per le riprese audiovisive dei lavori dell'assise comunale, ha chiesto che l'organismo consigliare discuta anche la delibera concernente l'anagrafe pubblica degli eletti. In sostanza i consiglieri di minoranza chiedono che i cittadini possano avere libero accesso alle informazioni che riguardano stipendi, consulenze e monumenti di sindaco, consiglieri e giunta, in linea con la campagna promossa nel 2008 dal Movimento dei Radicali Italiani per la riforma in direzione anglosassone della trasparenza nelle istituzioni politiche italiane ed europee, iniziativa condivisa tra gli altri anche dall'Anci. I consiglieri del Partito Democratico chiedono quindi che sul sito del Comune di Piceglie entro il 1 gennaio 2011 sia pubblicata l'anagrafe degli eletti, uno strumento in più nelle intenzioni dei proponenti per aiutare il cittadino a conoscere attività politica e condizioni reddituali a inizio e fine mandato dei propri rappresentanti, informazioni che possono tornare utili per una scelta di voto più consapevole in occasione delle amministrative in programma a Piceglie il prossimo anno.